Ciao, questo è il solito video che faccio sui film che volevo, anche se magari come film del 2018 e come film mi era piaciuto, gli volevo dedicare un video che voglio parlare un attimo di questo film che si chiama Gotti, il primo padrino che come attore principale John Travolta che come film dura qui 112 minuti che è qui 1 ora e 50, 1 ora e 52 di film magari logicamente, essendo magari un film americano, è uscito appena dopo l'estate del 2018 che come data d'uscita in America è stata alla metà del giugno, sempre il 2018 però qua in Italia arrivano sempre quei 3-4 mesi dopo che qua in Italia mi sembra che è arrivato verso ottobre qua in Italia nei cinema, qua italiani come regista e questo Kevin Connolly che parla più che altro magari di questo John Gotti che ha, come si dice, parla magari di mafia questo film, magari anche se magari come genere tocca come genere, magari di film tocca più che altro magari giallo, thriller, però è il solito, magari è film, magari che parla proprio di questo boss John Gotti che parla magari più che altro della sua vita della sua vita magari da criminale che più che altro nel film parte fin da subito che più che altro è basato magari sulla sua vita che la maggior parte delle volte quando era a processo riusciva sempre magari a sfuggire a certe condanne però già da subito come è partito magari il film già dalla prima scena parte direttamente rivolgendosi rivolgendosi direttamente al pubblico che la vita magari di un criminale finisce finisce solamente in due modi in galleria o in galera o o vini tipo ammazzato però a lui è capitato tutte e due le cose assieme ma ma lui magari durante il film parla ma è più che altro come stavo dicendo prima di questa della sua di questa sua vita che magari anche come si dice anche magari il oltre magari a prendersi magari prendersela magari anche colui se la prendono anche con più che altro anche con il figlio che sta tipo prendendo non proprio magari le sue orme però quasi che più che altro magari si stavano tipo più che altro magari accadendosi magari su suo suo figlio mentre lui era in cacere che quando era in cacere si era pure magari si era tipo ammalato di cancro che era diventato anche anche Maree pelato che magari certe scene magari lo si vede si vede lui pelato che magari durante i film si vede magari il figlio che magari per non per riuscire magari a difendersi magari su certe cose che magari lo vedi magari andare in cacere dal papà chiedere magari qualche chiede magari consigli al suo papà di come di come fare proprio che altro magari il film è concitato su questo proprio su John Gotti che ha fatto questa vita da criminale che è un boss che la maggior parte della sua vita e ha su molte cose e ha riuscito a fare la fanca e di non riuscire a a prendere tutte le accuse che che gli davano su quello che Mariah ha fatto che Mariah la trama di questo film era questa qua che gli volevo tipo dedicare un video visto che come film parlava di mafia di mafia di questo Gotti ho visto che come ha fatto Mariah anche il film come erano girate le scene anche quando lui è dentro Mariah al cacere ho visto che meritava come film anche se io ero magari abituato magari su questi film di mafia magari abituato magari con con altri magari registi attori però visto che come come film questo qua meritava anche se magari come regista non è magari che questo che Kevin Connolly è stato ed è riuscito magari a fare magari anche a fare magari anche un bel film su questo John Gotti di questa vita criminale new yorkese che questo Gotti era magari anche un magari all'inizio pensavo che era uno di quei magari boss che c'erano magari di tanti anni fa dopo quando seguendo magari il film ho scoperto magari che come magari come mafioso così è stato anche è stato magari anche è recente come cosa che lui è morto il DC giù se se non sbaglio è morto nel giugno del 2002 sempre che per colpa di questo cancro mentre era in carcere che questo Gotti il primo padrino visto che anche se hanno messo John Travolta come come autore a fare la parte di questo mafioso ho visto che anche Maree da parte sua è riuscito magari a come si dice anche da parte di Travolta la sua Maree ha fatto Maree anche la sua Maree parte è niente che Maree quando faccio questi video Maree lascio sempre Maree sotto Maree descrizione il videotrailer e Maree tutto il cast degli attori che hanno partecipato e Maree si riesco anche Maree anche la trama proprio del film e qualche altro Maree visto che è di questo mafioso criminale boss new yorkese Maree lascio Maree qualche altro Maree si riesco a trovare a trovare Maree qualche notizia in più su questo John Gotti Maree la metto sotto Maree in descrizione e niente quello che magari potevo dire anche su questo film Maree l'ho già detta e niente al massimo ci vediamo sicuramente Maree più avanti con i miei magari i soliti video che porto Maree sul mio canale e niente per adesso vi saluto e ci vediamo al prossimo video ciao